ma non lo so secondo me si sa chiamare caccherone oi warte lassi sa chiamare caccherone bravo ma che peccato ma non riesce le cose vieni qua andiamo a fare il giusto quando ora fare fatto fai fare una cosa capisci e questo è una ragiapura capisci e se lo ho ma pure aprìmme il fondo proprio uoh eccomi bella buona po' esparuta ma pure aprìmpe ma aprìmpe il fondo Grazie a tutti.